Innanzitutto vi voglio tranquillizzare che questo vid è molto semplice. Non è fatto solo per le persone che hanno studiato medicina, ma possono capirlo bene tutti quanti. Ora, che cos'è la lussazione dell'anca? Si tratta della perdita dei rapporti reciproci tra i capi articolari dell'articolazione dell'anca. Sembrano paroloni, ma la sostanza è molto semplice. Probabilmente molti di voi conoscono che cos'è la lussazione delle spalle, cioè quando la spalla esce. Questi sono i termini che usano i miei pazienti, quindi capisco che possano comprenderli tutti. La stessa cosa succede a livello dell'anca. Cioè la lussazione significa che l'anca esce. In pratica il femore si stacca dall'acetavolo e poi va o avanti o indietro, comunque non è più al suo posto. E questo è un infortunio molto grave. Quali sono i sintomi? I sintomi sono importanti perché il paziente ha un fortissimo dolore inguinale, comunque nella zona dell'anca. Ha una deformità perché il femore non è più al suo posto, si è spostato indietro o in avanti. E questo si vede e si sente anche alla palpazione. E poi non riesce a muovere la coscia, perché la coscia non è più al suo posto. La testa del femore, che è questa parte del femore superiore, non è più al suo posto. Non riesce a fare perno sull'osso e quindi anche i muscoli non riescono a muoverlo, oltre al problema del dolore. Vediamo anche qualche cenno semplice di anatomia, così almeno riuscite a capire di cosa stiamo parlando. Beh, l'anca è l'articolazione tra il bacino e il femore. In particolare tra la testa del femore c'è la parte superiore, semisferica, e questa cavità chiamata acetabolo. Una cavità in cui è inserito il femore e permette una buona mobilità, perché il femore si muove poco meno dell'ami. E dell'omero c'è l'osso del braccio. Ora, cosa succede? Che durante la lussazione c'è un trauma forte che spinge la testa del femore all'esterno. Però, quali sono le cause di questa lussazione? Beh, le cause possono essere diverse. Sono sempre traumi, possono essere traumi sportivi. Il più frequente è un incidente stradale che provoca un trauma contro il cruscotto della macchina. E questo spinge posteriormente la testa del femore, quindi si avrà una lussazione posteriore. Dopo vediamo anche i tipi. Ci può essere anche un trauma da schiacciamento o una caduta dall'alto, che può causare questa lussazione. Quali sono i diversi tipi di lussazione dell'ANCAM? Beh, abbiamo due tipi sostanzialmente, la lussazione anteriore e quella posteriore. Come probabilmente avrete intuito, la lussazione posteriore si verifica quando c'è un trauma che spinge la testa del femore dietro all'acetabolo. E in questo caso il paziente si presenta in pronto soccorso con il femore in rotazione interna. Quindi in pratica, ve lo faccio vedere su di me, arriva in questo modo, con una rotazione all'interno. Un po' meno piegata la gamba, quindi una rotazione del genere. Ora, questo di solito è causato da un incidente stradale, come dicevamo prima, il trauma contro il cruscotto. La lussazione posteriore è di gran lunga la più frequente. Più rara è la lussazione anteriore, in cui la testa del femore si sposta davanti all'acetabolo. In questo caso il paziente arriva in pronto soccorso con il femore in rotazione esterna e abduzione. In pratica in questo modo. E questa è una posizione che favorisce la diagnosi, nel senso che il medico riesce più facilmente a capire cosa può essere successo. In caso di lesione del nervo sciatico ci può essere una paralisi o una paresi. Significa che il piede non riesce più a fare movimento o di flessione dorsale o di flessione a plantare, quindi non riesce ad andare nì in su nì in giù. O comunque ha alcuni movimenti molto difficili, molto complicati, non riesce a farli completamente. Potrebbe essere possibile fare però la flessione delle dita che in parte dà una lieve flessione dorsale. Questo perché? Perché ci sono dei nervi diversi che arrivano al piede e quindi anche un problema del nervo sciatico potrebbe essere controbilanciato da altri nervi. Quali sono le complicanze della lussazione dell'anca? Beh, ci sono alcune complicanze immediate, cioè si verificano durante il trauma. Altre complicanze invece si verificano col tempo, quindi si chiamano complicanze tardive. Tra le complicanze immediate del trauma ci sono sicuramente, come abbiamo detto prima, la lesione o comunque danneggiamento dello sciatico che può causare la paralisi del piede, la lesione di vasi sanguigni, di altri nervi, ci può essere la lesione anche di tendini, legamenti e muscoli. Si può verificare una frattura, una frattura come abbiamo già detto anche prima, del femore o dell'acetabolo, quindi di questa cavità del bacino, del bordo dell'acetabolo. Altre complicanze non legate assolutamente all'anca di per sé, possono essere comunque causate dal trauma, quindi ci sono la lesione del crociato posteriore, che è un legamento del ginocchio, la lesione del menisco, oppure il trauma può causare anche delle lesioni degli organi interni addominali. Poi ci sono le complicanze tardive, come dicevamo prima, si sviluppano dopo col tempo, anche dopo aver fatto la terapia adatta, col tempo si possono sviluppare per esempio la necrosi della testa del femore o di frammenti di osso che sono stati staccati, quindi c'è stata una frattura, ci sono staccati alcuni frammenti e questi possono andare in necrosi. Che cos'è la necrosi? È la morte cellulare. Questa necrosi si verifica soprattutto se il trattamento è fatto tardi, quindi dopo almeno 6 ore da trauma. Farlo prima non dà la sicurezza che non ci sia la necrosi, però farlo dopo aumenta tantissimo le probabilità. Tra le altre complicanze tardive ci sono l'artrosi, che è provocata dalla lesione della cartilagine che avviene durante il trauma e questa favorisce poi la degenerazione dell'articolazione, che è l'artrosi. E un'altra complicanza è l'instabilità. Come si fa la riabilitazione? Beh, la riabilitazione è fondamentale per il recupero della ampiezza di movimento, della forza, della stabilità e anche dell'equilibrio, perché quando il paziente sta molto tempo fermo perde anche l'equilibrio e quindi dopo bisognerà fare esercizi anche per il recupero di questa funzione. Quali sono i muscoli da rinforzare? Beh, ci sono alcuni muscoli che sono fondamentali per dare stabilità all'articolazione, in particolare sono i rotatori interni e esterni. Ok, ci stiamo avvicinando alla parte pratica. Quali sono quindi questi muscoli che tengono il femore attaccato, adeso all'acetabolo? Sono il piriforme, piccolo gluteo, medio gluteo e otturatore esterno. Sembrano tutti nomi particolarmente strani, comunque si tratta di muscoli che originano dal bacino, arrivano sul femore, più che altro dalla parte superiore, dall'ileo, o comunque il piriforme che origina dal sacro, e poi c'è l'otturatore esterno che invece è più profondo, più all'interno. Questi muscoli avvolgono in pratica la testa del femore e quindi danno la stabilità perché hanno un'azione di spinta verso l'acetabolo. Ora, bisogna rinforzare anche altri muscoli, in particolare il grande gluteo che è un estensore, cioè fa il movimento di spostamento indietro della gamba e bisogna rinforzare anche l'iliopsoas. Che cos'è l'iliopsoas? L'iliopsoas è un muscolo che origina dalle vertebre e arriva al piccolo trocantere del femore, adesso vi faccio vedere, è una striscia più o meno così, che fa questo percorso. e anche questo aiuta molto a stabilizzare l'anca. Quindi bisogna rinforzare anche questo muscolo. Adesso vediamo tutti gli esercizi che si possono fare per rinforzare i muscoli che stabilizzano l'anca e per recuperare tutte le varie disabilità causate dalla lossazione dell'anca. Quindi sicuramente bisogna fare degli esercizi per recuperare il movimento, ma bisogna stare molto attenti e ripeto molto attenti soprattutto al movimento di rotazione interna che è questo. Ve lo faccio vedere su di me. Alla rotazione interna e all'adduzione questi due movimenti perché mettono l'anca in una posizione più instabile e quindi soprattutto all'inizio nei primi periodi di riabilitazione e di recupero bisogna assolutamente evitare. Mentre bisogna rinforzare i muscoli che dicevamo prima. I movimenti devono essere comunque all'inizio della riabilitazione ridotti per evitare sempre problemi di eventuale lussazione ulteriore. Quindi se l'articolazione non è completamente stabile bisogna fare dei movimenti sempre in un range, diciamo in un'ampiezza ridotta. E ora vediamo la parte pratica e andiamo a fare gli esercizi. Molto bene, passiamo finalmente alla parte pratica. Questo significa che siamo già nella fase di riabilitazione. Quindi il peggio è passato. E vediamo quali sono gli esercizi almeno nelle prime fasi che vi consiglio per stabilizzare l'anca. Partiamo dall'esercizio per il grande gluteo quindi un esercizio in estensione. Per fare questo esercizio ci dobbiamo mettere a 4 zamper. Posizione quadrupedica in questo modo e da qui stendiamo la coscia verso l'alto. Solleviamo la coscia. Ve l'ho fatto vedere in tutte e due le gambe così avete visto meglio. Comunque serve soprattutto alla gamba dove c'è stata la lussazione quindi all'arte inferiore lussato. Diciamo che è il sinistro e quindi facciamo l'esercizio col sinistro. Poi quando una persona è stata tanto tempo immobilizzata ovviamente dovrà recuperare anche l'altro arto quindi va benissimo fare gli esercizi per tutte e due le gambe. E questo era l'esercizio per il grande gluteo da fare 20 volte e non è un esercizio assolutamente pesante. L'unica cosa di cui mi raccomando è non fare questo perché andrebbe a rinforzare soprattutto gli ischi crurali cioè i muscoli posteriori della coscia. Mentre questo con il ginocchio piegato permette di rinforzare il grande gluteo. Ora come dicevamo bisogna rinforzare soprattutto il rotatore. Per rinforzare i rotatori esterni vediamo un esercizio chiamato CLAMS che si effettua sul lato con l'elastico. Per fare questo esercizio quindi ci mettiamo sul fianco come prima si può fare su tutti e due i lati diciamo che questa è la gamba dell'anca lussata e quindi alziamo questa questa coscia dell'anca lussata superiormente facendo quindi una rotazione esterna così andiamo a rinforzare i rotatori esterni dell'anca. Anche questo esercizio si può fare 20 volte su e giù su e giù ok un altro esercizio che rinforza gli abduttori comunque rinforza sempre il piccolo e medio gluteo e l'abduzione laterale e da questa posizione mettiamo una mano davanti una mano sotto la testa oppure si può stare con il braccio sotto la testa e da questa posizione solleviamo la coscia in questo modo lateralmente qual è la cosa importante da controllare sempre? La cosa più importante è che la coscia sia sulla stessa linea della colonna vertebrale se fate una cosa del genere state facendo un grosso errore perché non state rinforzando i muscoli che ci interessano ma ne state rinforzando altri che magari già soffrono di eccesso di lavoro di sovraccarico quindi cosa dobbiamo fare? Mettiamoci di lato la gamba inferiore deve essere piegata diciamo a un angolo di 45 gradi rispetto all'altra l'altra gamba ben in linea con la schiena solleviamo e l'ideale sarebbe mentre solleviamo ruotare il piede verso l'alto però bisogna stare molto attenti perché cosa succede? che cercando di ruotare il piede si potrebbe fare questo errore cioè la rotazione del bacino quindi questo magari non fatelo le prime volte quando riuscite a fare bene l'esercizio allora potete aggiungere anche la rotazione del piede le prime volte facciamo solo il sollevamento laterale così gamba viene in linea con la colonna vertebrale dopo i primi 2-3 giorni quando l'esercizio vi viene bene allora potete aggiungere anche la rotazione del piede verso l'esterno l'esterno tenendo sempre il bacino perpendicolare al tappetino al terreno quindi su e ruotiamo su e ruotiamo ora cosa ho notato? ho notato che spesso la gente all'inizio non riesce a farlo bene questo esercizio la gamba va in avanti il piede ruota il bacino ruota non bisogna avvilirci anzi un motivo in più per continuare perché? perché generalmente cosa vedo? che i pazienti fanno questo movimento la prima volta li correggo lo fanno un po' meglio li correggo ancora più o meno stabile poi già verso la quarta quinta iniziano a farlo meglio e arrivati alla decima invece di essere più stanche quindi di farlo peggio vedo che lo fanno meglio perché? perché riescono nel frattempo ad attivare i muscoli che erano diciamo arroginiti che non erano utilizzati fino a quel momento dimenticati quindi cercate di farlo continuate a farlo se non vi viene bene non vi preoccupate questo esercizio però è molto importante ora vediamo un esercizio come dicevamo prima per rinforzare lo psoos che aiuta a stabilizzare anch'esso l'anca allora come si effettua? posizione supina quindi palci in su ginocchia piegate da questa posizione portiamo il ginocchio verso il petto in questo modo e poi torniamo giù cosa bisogna fare? all'inizio come dicevamo prima nelle prime fasi non bisogna esagerare con i movimenti quindi fermiamoci prima di raggiungere il limite più avanti soprattutto quando il medico lo permette invece di arrivare fin qua possiamo arrivare anche più su in questo modo così su e giù su e giù molto bene poi ci saranno altri esercizi più avanzati che andranno a rinforzare meglio a migliorare anche l'equilibrio perché come dicevamo una persona che sta molto tempo ferma atrofizza tutto atrofizza i muscoli i tendini i nervi e quindi deve recuperare tutte le funzioni se il video ti è piaciuto clicca sul pollice alto cioè metti mi piace condividi con tutti i tuoi amici lascia un commento per qualunque domanda o suggerimento o per dirmi quale sarà il tuo primo esercizio e iscriviti al canale non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video grazie